musica 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 allora covo che schifo guarda io banno questo perchè ogni volta che ce l'abbiamo noi porco 2 oh a me non mi fa proprio schifo schifo no non è male è solo che non solo q o comunque in team è un po' di talcuno so chi prendere prendiamo frost raga mi sta sul culo frost che ormai non ammazza più in un colpo cioè tu devi metterti perchè la cosa brutta di frost è quella che devi mettere lì con le trappole ma devi stare vicina alle tue trappole perchè se quello viene noccato lo devi per forza finire che palle vabbè che poi lo danneggi in maniera si fa venire il ciclo però fai urla quando cammina si anzi no come ieri what the fuck what the fuck what the fuck vabbè guarda che sto su tik tok shike su tik tok oh zi girati tre su tik tok ce stanno eh bello di toki eh manca a fare così madonna di dio provano sempre a mettersi davanti le mie frost raga per rompermele spesso succede fukan fukan le frost raga l'ultima la metto la finestra qua secondo me la prendono dai hanno un team rincognito ci deve essere eh ma non tutti eh lo do oh già già che castor non ci barica dentro vabbè questo ti riesco perché è fatto apposta proprio che ecco ecca ecco mbre mll grande mi serve aiuto da me adesso ha coccato nerd ma che cazzo Ma Ehm, mira, mi sa che muore Presto Bene Ah, va dietro Io so flashato Vedo più un cazzo Stanno plantando, Ciccio? Eh, zio, sto per giro, ma No, 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 possibile Sto accanto a lui Ehm, sto a destra e in fondo Ah, pure con la pistola Ma non l'ho proprio visto, ti giuro Ma neanche lui, sai, ha sparato a cazzo Dici? Sì Bella race o shiko hit Gabriele, devi fare 7 kill Ci devi carriare Comunque Primo round, ragazzi, dai bambini Sì, eh Sì, sì, sì Adesso Rook, c'ha una voce di merda Sì, ragazzi È come se si stesse cacando addosso Ma io Madonna, questi Puri, ragazzi Sono pieni di droni Pieni Eh, no Niente Niente, ce l'hanno fatta la tomba Eh Ma sai che vado in giro No, ragazzi Qua vuoi è offensiva Ok 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 Ma c'ha già ramm Ma sai che c'hanno montagne Non ti voglio dire una cattata Oh, uno è quasi morto Un altro Uno sta alla mia destra Ok Allora, questa non si è messi male Anzi Messi pure bene Non ti voglio dire una cattata E' caida di facciare Sui gazzi Suoi Raga Mi sono ben culato Dico, eh Ok Dall'altro lato No, da qua Ok Perciò le gu Fai che finché perdono tempo Sono E' uno solo o due da te? Due Secondo me due Arriva Ma c'era uno da me? L'ho craccato forte Ma sai che significa forte Ma forte Arrivano qua Ok Nice L'avevo abbattuto Ecco perché ti dicevo L'ho craccato forte Che cazzo Oh, uno a uno è buono Ricordiamoci Questa mappa è offensiva Oh, ciccio Ma quante cazzo Di kit ti sei fatto in sto round C2 Eh, mettere lì Sto morendo Sono morto Sono morto Eh, ma proprio perché stavo lì Ho fatto l'ultima resistenza Sì Tipo The Walking Dead Sparavo Quanti uno E uno ti avevo detto Oh, l'ho craccato forte Infatti era proprio perché stava giù Ah, hai capito Allora Iso-Doc Se qualcuno viene sparato Pupu Me lo dica Io proprio sta Sta mappa Non la conosco Sta mappa È piena di porte Muri che si rompono Cose strane Infatti in attacco È un po' meglio Eh, questi ci bricceranno sicuro 100-100 No, però Kestor che palle Non mi piace Kestor Ne sento uno Ping 2 Ok, uno dove c'è il Legion Ho sparato, eh Non lo so C'è nessuno Non c'è nessuno Ecco ho fatto Guarda dove cazzo Stava quello Eh, che babb Eh, uno ping 2 2 ping 2 Sono sopra Pure 3 Ok, sono tutti sopra Ciccio Eh, sono tutti sopra Ok, sono tutti sopra Ok, è una spulata Mappa Eh Non ce l'ho fatto E Buono Male Ah, alla 1.50 HP Demos dentro al site, già Che cazzo, ai ragazzi che sono con noi, ragazzi, prossima volta, se se li succede, se ne facciamo 3-3, quelli che si prendono Legion, Ela, andate su, perché è una mappa, c'è un site che, se tu gli lasci il su, succede questo E non ci poteva andare io e ciccio che abbiamo 3 di armor No, ma più che altro, porco zio, ma me poteva morirmi quello dietro e me faccio pure quell'altro, no, eh, è sempre mortale Comunque contro abbiamo italiani, eh Sì, sì, ma... Ma perché Astro mi ha appena giunto, quindi... Ma sì, 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 però non mi sembra che stanno a sniper A, cioè non... è un team legit Però quando troviamo in squadra gente che prende montagne e sanno che non dovrebbero prenderlo Attento alla porta di sinistra, finestra Questa cosa è una mappa di merda Oh, Lucifer Allora Io potrei anche briciare qua Vediamo Allora, io sto briciando Noi si va... ci stiamo divertendo un po' Ok Siete già dentro? Sight Capisco Capisco, ragazzi Ok, capisco anche questo Beh, ma è normale, sì, ma non si gioca a montagna Vabbè, era dopo Anche perché lo sai qual è la cosa? Noi abbiamo detto che loro contro fino adesso non stavano snapperando, no? Sì Il problema è che la bomba era sotto, giusto? Sì C'erano quattro sopra Ah Quindi lo sapevano dove stavamo entrando con montagna Perché io stavo insieme ai ragazzi, capito? Eh, io ti ho detto che mi è arrivata la richiesta di Astro Mamma Necessaria proprio stream snapperare, ragazzi Eh, mamma D'accordo, d'accordo Me lo accollo Sti cazzi Sì, cazzo Sotto era il site E loro hanno quattro sopra Quattro Quattro Senza senso, capito? Sì, 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 sì Ma infatti Allora, vi dici Ora, appena ho visto tutti dentro Ho detto Ah Oh Eh, ma ce ne sono arrivati due da sinistra e due da destra Cioè, praticamente, sapevano perfettamente dove eravamo Perché io stavo insieme con montagna, no? Cioè, se tu te prendi montagna È normale che il gruppo te deve venire dietro Eh Però Se trovi tutto Tutto il team contro davanti E ridelo come fa a saltare la testa Cazzo Mmm Mmm Faremo anche Fare questa Tattica speciale E non mi sei la norma doveme optimistic Buongiorno O O Ragazzi O unserem O O Asli Oh S一樣 miei Asli Bravo Che faccio il fiozzi ok 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 quello è morto ok l'operatore è un altro hai capito hai capito hai capito la cosa bella se ci fai caso stavano tutti là bella mamma mia io non voglio togliere niente alla tua skill te lo giuro non voglio togliere niente alla tua skill ma figa erano uno dietro l'altro erano uno dietro l'altro 4 erano 4 dietro una porta uno dietro l'altro bravissimo si allora l'unica cosa che dico che secondo me ho fatto giusto è il fiozzi mettendo il fiozzi è quello che è confuso no no ma hai giocato benissimo però era per farti capire che loro sapevano perfettamente tu dove eri sapevano tutto uno dietro l'altro easy belli facile bello 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 la cosa che mi fa puzzare ti ricordi quando è successo da scala che hanno subito rotto la porta quella rinforzata e quello mi ha fatto puzzare un attimo perché ero pure fermo tranquillo gil pieno piano ah ma te lo sto dicendo uno adesso mi ha pusciato da dietro ma lui sapeva che io ero girato dall'altra parte capito e in più avevo messo le trappole di cosa hai visto quella un po cicciottella che lancia tutti gli spuntoni e lei lui sapeva e mi ha pusciato sopra gli spuntoni cioè quindi boh 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 ma chi è questo? sai come si chiama? eh no non te lo so dire questo caga cazzi con sta cam de merda che dove rompi i coglioni e qua fanno oh lag a me no eh meglio 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 allora sopra non c'è nessuno però c'è una cam io posso rompere ok io ho fatto la fotola beh hanno attivato un gadget c'è un coglioni qua dentro guarda la madonna io fiozzo dimmi dimmi che ma col te lo fa frate che boh devo fare la botola e dove? dimmi dimmi shaiko dimmi a papà devo fare la botola? e ti faccio l'oro andiamo con la botola e i tuoi e io ero che i tuoi e io esiti e io ero e io ero e io ero te lo vedi? beh lo so ok shai go mortacci tua che ti incline dall'altro lato anzi questi muo vengono a prendere il 45 ah voglia infatti io non ti sto guardando sto guardando su ma no ma non c'è ah è vero perché 15秒 eh ma che gli faccio zi eh però va a sti cazzo che te frega 5秒 mai peccato peccato eh raga ha capito porco 2 c'è sapevano troppe cose peter è il primo cioè io capisco come ha fatto il buco su quel muro però era fissato ero proprio convinto se io fossimo pesa attenti poi che cazzo che cazzo è il primo da che cazzo non è in cazzo non è in la cazzo in l'unico l'unico